buonasera eccoci per un consueto aggiornamento sulla situazione coronavirus a mugnano innanzitutto velocemente quelli che sono i dati sulla nostra città come sapete anche dall'ultimo report dell'asl ci attribuiscono dato un dato ufficiale che rappresenta una buona notizia cioè stiamo sotto i 700 positivi quindi dopo aver toccato quella che era la punta massima adesso siamo in una fase sembrerebbe discendente ovviamente utilizziamo il condizionale e manteniamo prudenza un dato invece triste che è maturato in questi giorni come avete saputo anche in italia c'è stato il record di di decessi ecco anche a mugnano poi sono state accettate dei decessi che appunto accanto a quelle che erano altre patologie sono risultati poi essere positivi al al covid siamo quindi a un totale dall'inizio della pandemia da inizio anno di 12 morti quindi per la nostra città attualmente abbiamo 10 persone ricoverate in ospedale fortunatamente nessuno in terapia intensiva e siamo arrivati a un totale di circa 527 guariti ora ovviamente restano in vigore tutte quelle che sono le restrizioni previste siamo in fascia russa e oltre quelle che abbiamo adottato come comune dove abbiamo chiuso diverse cose come sapete siamo in attesa chiaramente del nuovo dpcm per capire un attimino da dal fine settimana cosa sarà possibile fare e cosa no affrudo subito uno dei temi più discussi di questo periodo e cioè il tema della scuola nella zona siamo comunque tra gli ultimi comuni ad aprire come sapete infatti in alcune realtà sono già in funzione le scuole dell'infanzia la prima elementare la regione ha prolungato fino al 7 dicembre l'apertura dalla seconda classe elementare in poi e quindi dal 9 si va tutti quanti a scuola per quanto riguarda il comune di mugnano noi abbiamo invece deciso di fare tutta la diattica a distanza anche per le scuole dell'infanzia almeno fino al 7 dicembre dal 9 ecco se l'andamento dei contagi dovesse diminuire drasticamente quindi esserci molti molti guariti ovviamente non ci saranno più i presupposti per giustificare un'ordinanza di chiusura lo voglio dire con chiarezza perché tantissimi genitori spesso negli ultimi periodi dell'età divisi in vere e proprie tifoserie mi chiedono in questo caso di chiudere ancora e di aprire direttamente a gennaio il problema è che noi sindaci non abbiamo un potere infinito il nostro potere di ordinanza sindacale si giustifica per motivi importanti quali sono la sicurezza o quella che possono essere motivi sanitari ora quando io ho disposto la prima chiusura ero in una fase di crescita esponenziale dell'aumento del numero dei contagi e quindi la mia ordinanza è giustificata ma se ci dovessero essere una forte e una sensibile riduzione del numero dei contagi ovviamente la mia ordinanza una mia eventuale ordinanza non sarebbe giustificata per cui lo voglio sottolineare lo dico non solo per me ma anche per gli altri sindaci non siamo così liberi di poter decidere cosa fare ma dobbiamo chiaramente nere conto di tutta una serie di considerazioni in questo caso il nostro potere soprattutto sanitario nel caso specifico comunque dato che abbiamo costituito una task force ad hoc e il coq che è l'organismo che decide sull'emergenza organizzerò una riunione con la task force e con il coq dove sono presenti anche medici personali dell'asl e prenderemo una decisione diciamo a ridosso di quella che sarà la scadenza del 9 dicembre voglio anche dire qualcosa sui controlli siamo in aumento finalmente ho recuperato un po di uomini come sapete i vigili urbani erano stati purtroppo anche loro colpiti dal covid e molto in quarantena qualche uomo è stato recuperato stiamo effettuando appunto dei controlli a sorpresa sul territorio ovviamente sono controlli voglio dire che servono solo per ridurre allo stretto necessario la circolazione perché come ci siamo già detti ci sono tanti motivi per poter circolare l'importante è che tutti quanti noi con grande autocoscienza ci veramente facciamo in modo appunto di uscire solo per le cose necessarie aggiungo che è importante avere l'autocertificazione meglio se è compilato ovviamente in modo da avere una valida motivazione in caso appunto di controllo altrimenti ci sono molte molto molto salate voglio anche dire qualcosa sui controlli diciamo anche di alcune attività purtroppo in settimana siamo stati costretti a chiudere un circolo ricreativo che sfruttava un ingresso sul retro per tentare comunque di incontrarsi ecco diciamo queste persone ci dispiace ovviamente in questo periodo non è consentito come sapete i circoli ricreativi sono chiusi e devono restare devono restare tali ancora abbiamo quello che è il bonus alimentare di cui vi voglio parlare nel senso di dire non è ancora uscito alcun bando è inutile venire adesso al comune in questo periodo per diciamo chiedere informazioni perché quando uscirà pubblicizzeremo il tutto in modo chiaro e insomma daremo ampia ampia pubblicità appunto a questo a questo bonus la cosa importante così sgombriamo il campo come dicevo l'altra volta ovviamente non è rivolto a chi già percepisce reddito di cittadinanza a chi già percepisce una pensione a chi già percepisce la disoccupazione questo è rivolto voglio dire a chi non ha nulla a chi non percepisce nulla ed è rivolto anche a chi non ha un giacenza media sul conto superiore ai 10.000 euro mi sembra anche voglio dire ovvio diamo invece anche qualche buona notizia su un altro bonus su cui tantissimi di voi mi chiedete informazioni continuamente e cioè il bonus il famoso bonus fitti ecco come sapete stiamo già pagando quelli covid e con il consiglio comunale di stasera che finalmente approverà il bilancio il primo bilancio di questo consiglio comunale questo è il secondo consiglio comunale che viene convocato ecco finalmente incameriamo quelle somme regionali destinate proprio al contributo ordinario dei fitti dai calcoli che abbiamo effettuato anche scorporando in alcuni casi la quota di reddito di cittadinanza per le mensilità di quest'anno per coloro chiaramente che prendono il reddito di cittadinanza e hanno fatto anche la domanda dei bonus fitti ecco facendo questa sottrazione comunque siamo riusciti a recuperare ulteriori risorse e sostanzialmente la buona notizia è che sembrerebbe che riusciamo a coprire più della metà di quello che era l'importo massimo previsto per ogni fascia fascia a fascia b appunto e questo importo riusciamo a erogarlo prima di natale insomma cercheremo faremo in modo ecco di consentire a tutti di poter trascorrere questo natale con qualche preoccupazione in meno dalla testa ne abbiamo ne abbiamo già tante ci rivediamo presto alla prossima